Il tema di Cosmopharma Il tema di Cosmopharma è una delle novità di Cosmopharma 2019 perché i tempi sono maturi per parlare di digitale anche in farmacia. L'obiettivo è stato quello di riprodurre una farmacia, ma non nel senso tradizionale e classico con gli arredamenti perché ci sono fiorfiore di arredatori qui in fiera, ma uno spazio che riproponesse la metratura di una farmacia dove all'interno trovare un condensato di quello che è il digitale oggi presente in farmacia. Stiamo parlando di soluzioni del 2019 e non del 2030. Il digitale è presente, sta imperversando ed ha un impatto molto forte anche all'interno della farmacia. E perché quindi un focus proprio sul digital quest'anno? Anche per questo, noi siamo nel padiglione 30, l'ho ricordato anche prima, che è una delle novità di Cosmopharma 2019 ed è pieno di schermi. Per chi capita in questo padiglione vedrà tantissimi schermi e tantissime innovazioni tecnologiche e digitali. Anche per questo, perché ormai è una novità a cui non possiamo rinunciare? Allora, l'obiettivo di Cosmopharma Digital Lab era fare una sorta di education, perché tanto si parla e effettivamente al padiglione 30 vediamo che ci sono schermi che hanno ormai delle dimensioni gigantesche, tecnologia imperversante da tutte le parti, però l'obiettivo che ci siamo preposti con il Cosmopharma Digital Lab è di fare una sorta di educazione, perché è vero, soluzioni tecnologiche e digitali ce ne sono veramente tante, quanto il farmacista però queste soluzioni riesca a percepirle come opportunità per lo sviluppo della professione della farmacia, questo non lo sappiamo. Quindi c'è tanto da lavorare e l'obiettivo era, attraverso appunto il Cosmopharma Digital Lab, con un linguaggio semplice, fatto da chi però il digitale lo conosce e ci lavora quotidianamente con il digitale, accompagnare in questo percorso alla scoperta di quelle che sono le soluzioni, tant'è che il Cosmopharma Digital Lab, questo spazio, è suddiviso in aree. Perché quando parliamo di digitale parliamo veramente di tutto e di niente, perché scendiamo nello specifico, per quanto riguarda la farmacia, noi abbiamo suddiviso questo percorso in aree che iniziano dall'ingresso della farmacia e quindi con l'acquisizione di tutta serie di dati che sono fondamentali per la farmacia, in un'area che abbiamo chiamato Proximity Marketing. Il percorso continua attraverso il Digital Health, soluzioni ormai di telemedicina, sia in farmacia che a domicilio, per poi arrivare sul Digital Signals, perché la comunicazione è fondamentale. Non dimentichiamo mai che la farmacia e il lavoro di farmacista è una professione di relazione, quindi la comunicazione è fondamentale. E poi, essendo questo modello, questo concept di Digital Lab, ho voluto essere anche una farmacia omni-channel, e quindi spieghiamo anche qual è il significato di omni-canalità. E a tal proposito, all'interno, in questo percorso abbiamo previsto un'area che si occupa di e-commerce e di social media marketing, perché comunicazione e commercio elettronico sono altri due elementi che stanno veramente arrivando in maniera... In maniera molto forte all'interno anche del mondo delle farmacie, quindi ci sono tante opportunità che il Digital dà al farmacista e anche al consumatore da un altro lato. Il consumatore che tipo di opportunità può avere proprio dal digitale in farmacia? Beh, quello che è l'obiettivo, soprattutto di una farmacia omni-channel, è quello che in un luogo unico, e quindi quello che può essere la farmacia, il paziente, il consumatore, il cliente della farmacia, possa trovare tutto quello che sta cercando e soddisfare i propri bisogni, le necessità, ovviamente utilizzando tutti gli strumenti. Quando è in farmacia, rapporto diretto con il farmacista e quindi non dimentichiamo che il claim di quest'anno di Cosmopharma è più social, più human, quindi le relazioni, il rapporto umano è sempre al primo posto. E poi ovviamente per quanto riguarda il discorso anche di utilizzare questa relazione anche quando il cliente è al di fuori della farmacia e quindi si trova magari a casa, ma ha un contatto continuo e diretto ancora col proprio farmacista. Anche perché prima stavamo parlando proprio di questo, il fatto che le farmacie di fatto accompagnano 24 ore su 24 l'utente della farmacia perché non soltanto nel momento in cui sono aperte o nel momento in cui l'utente della farmacia si reca proprio nel luogo fisico, ma anche ovviamente perché utilizzano gli stessi prodotti che prendono in farmacia, ricordano anche il consiglio del farmacista su come prenderli, sulla posologia, sull'aderenza terapeutica, eccetera. Quindi è un 24 ore di accompagnamento. Esatto, l'errore da non fare è replicare le stesse cose che io posso trovare in farmacia, cioè proprio per mantenere una relazione, quindi diciamo nel punto fondamentale dell'omnicanalità e di soddisfare tutte le esigenze ma non riproporre... Sempre la stessa risposta ovviamente, si deve sempre adattare. E a proposito delle relazioni, come si evolveranno le relazioni nel prossimo futuro quando si parla di farmacista e ovviamente anche utente della farmacia? Beh, allora, come vi dicevo, il ruolo del farmacista è una professione di relazione, quindi la relazione umana di persona sarà sempre quella prevalente. Però ormai il farmacista non può esimersi da utilizzare questi strumenti digitali, se pensiamo a quello che è il capitolo dei social media, dei social network, ovviamente quelli sono un canale preferenziale da parte del farmacista per poter dialogare, stabilire un rapporto continuativo con la propria clientela. Quindi è necessario che il farmacista conosca come utilizzare al meglio questi strumenti. In ultimo, ieri abbiamo parlato già di digiceutici, una parola che sembra uno scioglilingua, ma in pratica è un incontro tra il mondo digitale e quello terapeutico. Addirittura ci sono applicazioni che aiutano nel sonno, nella qualità del sonno, o ci sono gli smartwatch che ti fanno l'elettrocardiogramma. Come si evolverà questo mondo? Si arriverà davvero a togliere la mela e mettere un'app che toglie il medico di tono? Si, lo sa. Quello che vediamo veramente dai primi esperimenti è che ormai la tecnologia sta facendo veramente passi da gigante e mentre tu parlavi mi è venuta in mente la prima cosa, la famosa pillola che tu ingerisci e poi ti monitora all'interno del tuo corpo. Era un film di fantascienza. Era un film di fantascienza, ma ci stiamo arrivando. Insomma, con beneficio di inventario, facendoci tutte le cose, perché effettivamente se pensiamo solo a tutto il mondo delle applicazioni ce ne sono ormai miliardi che vengono scaricate quotidianamente e poi altrettanto quotidianamente vengono cancellate. perché non dimentichiamo che, apro un piccolo capitolo, un piccolo parentesi su quello che è il mondo delle app le app come primo obiettivo devono essere utili ed essere utilizzate ovviamente tutti i giorni perché altrimenti non basta scaricare l'app una volta e poi quindi devono servire e soprattutto devono servire a semplificare la vita di chi le utilizzano. Diciamo che la tecnologia deve essere semplice per essere poi veramente utile e usata, è usata assolutamente. Anche perché alla fine se non viene usata, alla fine non abbiamo neanche il beneficio dall'applicazione però ecco, è un qualcosa che tutti noi ormai ci stiamo abituando a usare. Io per esempio ieri volevo vedere quanti chilometri avevo fatto qui in mezzo a CosmoFarm ma sono arrivato a 12-13 e me lo ha detto il mio smartphone. Quindi insomma, a parte che ci accompagnano ogni giorno, cominciano a essere davvero... Diciamo che il farmacista deve utilizzare questa tecnologia come complemento perché è vero che ormai la tecnologia, i dati, la precisione, ormai quella è... perché non dimentichiamo che le strumentazioni che spesso vengono utilizzate anche in ambito di telemedicina, di sistemi insomma digitali in farmacia sono poi le repliche di quelle che magari troviamo negli ambulatori, in ospedali ormai tecnologia è veramente a livelli eccellenti. Forse per la farmacia su certi sistemi dovremmo trovare ancora il modo di avere un'omologazione in modo che da Cuneo a Canicati lo strumento venga riconosciuto e validato perché questo insomma non dimentichiamo che parliamo sempre di salute e tecnologia però c'è la salute di mezzo. Quindi sicuramente è un po' il discorso che si faceva già un tempo fa il cliente entra in farmacia e me l'ha detto il dottor Google sì va bene che Google dice tutto però la capacità del farmacista deve essere quella di rispondere insomma in un certo modo con professionalità, con chiarezza e con... e non farsi prendere la sprovvista oppure prendere sotto gamba quello che dice il dottor Google. Dottor Pierangelo Fissore, Head of Marketing Communication, Uninet Pharma è stato un piacere di avere la nostra ospite, un buon Cosmo Pharma e buon Digital Lab Il piacere è mio e vi aspetto tutti al Cosmo Pharma Digital Lab Questo pomeriggio passerò a trovarvi Perfetto, grazie